13 e 24 con questo lungo dibattito sulla giustizia abbiamo voluto onorare la memoria di Paolo Borsellino e il suo barbaro assassino di 32 anni fa, ma per la nostra comunità di La Sette e per noi giornalisti oggi è il giorno anche di un'altra triste ricorrenza. Un anno fa ci lasciava Andrea Purgatori, un volto di questa rete, un grande maestro di giornalismo, un fuoriclasse quando si trattava di cercare ostinatamente la verità. Un anno dopo il vuoto che ha lasciato è ancora per noi enorme e solo la sua lezione di umanità e di caparbietà professionale ci consentono ancora oggi di ricordarlo e nascondere le lacrime con il sorriso che lui sempre dispendeva quando passeggiava per questi corridoi. Grazie ancora una volta Andrea, un anno dopo quella terribile notizia della tua morte. La linea può passare al telegiornale, io vi auguro un buon fine settimana, vi aspetto lunedì come sempre in diretta con l'Area che tira.